Grazie a Maria Pasqua, non c'è manifestazione nel pari di San Degna che non vede la partecipazione di Bustiano Composto, però è Bustiano. Una domanda, si ha fatto tanto il relatore, si ha fatto l'intervento, fritte, 6,2, circa la potenza installata, e non ha della cifra. Beh, siamo tessi di mano che non sfruttiamo il fatto, le poette, la santa chi me portendo, le servite tutte le migliorate, oppure siamo tessi di mano di poette esiste di Cerni Lugas, poette esiste di Infantilossi, poette esiste di Cerni Versi, siamo tessi di mano, sempre siamo tessi. Quindi, io che abilto, che miro la Sardegna e l'Italia dai Monteprano, il problema è chiarissimo, però il problema è che se lo è, lo so sanno, è chiarissimo essere che l'apporto di festa tra questa terra e l'esistante italiano. Cioè, questo è un rapporto, questo è un rapporto di discriminazione, chi non è spoverito, se non è discriminato, se non è un contesto, se non è discriminato, e quindi non devono mantenere la straversina, se non è alto, chi smonta, nessuna ferrovia, se si è stati italiani, che hanno fatto una gnocca, e poi debbiamo riciclare tutto il fumo di acciaieria, porro radiattivo, eccetera, eccetera. Cioè, veramente, ma la soltanto, ci siamo in un rapporto di discriminazione. A me, a Baitane, dai Monteprano, mi è schiato che il rapporto non è di discriminazione, ma è di dominazione. Cioè, il rapporto, cioè, il suo immaginario collettivo del suo Stato, ha messo che esiste un immaginario collettivo di ogni Stato, Manoel, che si avvantasseva, non potremmo immaginare, che è la concezione di Sardegna. La concezione di Sardegna è una ferrovia interna o esterna, chiamata la comente queridese, del suo Stato creato. E quindi, questo è un rapporto normale, che la Sardegna, quindi, è stata utilizzata, comente, terra, l'estrazione energetica. Noi possediamo un petrolio nuovo, possediamo il suo suo sole e il suo edificio. E quindi, estrarmo il gusto, il sole e il vento hanno l'estrazione, in funzione di chi è che lo deve estrarre, ed è il suo mandatario, il suo scrivere, il mio mandato, il suo speculatore cardanese, corsare un uomo a fare questa estrazione. E questo è tutto come è normale. Ma è normale, come è normale, quando hanno i nostri coloni dell'America, o con le nostri coloni africane, eccetera, eccetera, devono servire come ente, zona di estrazione delle materie, che si servono a questo sviluppo, di chi è, insomma, stabilita questo rapporto coloniale. E quindi, la fieta che non è? Beh, l'abbiamo avuto i corsi di Caryone, che non è solo, devono cambiare corsi di Caryone, la maniera deve impostare nella piattaforma. Cioè, la devono impostare e lavorando la Vemonte Brano. Casi, va lavorando, va adesso scorti quello, d'essa regione, e restando un un pacco. Ancorato, la cura rifatto, a questo scusione decreto, racconto decreto, legge regionale, legge statale, proprio questo decreto di accelerazione, che oggi e Mauro Filippo ha fatto un articolo, in un vero, 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 libero, in una cosa che ha l'estere, in un vero, in un vero, che comunque, addirittura, prevede il silenzio, e il silenzio d'assenso. Cioè, in un comune, in una zona, non risponde, piazzano, sono rimpianti, non chiederebbe di piazzare. Cante, non chiederebbe rispondere, a un'implastanza, cioè, stabilita, insomma, non è noi, stabilita da chi ha fatto tutto questo decreto. E quindi, spero, potremmo usare. Beh, proviamo a usare questo apparato regionale. Ma, chi è questo apparato regionale? Andiamo a vedere chi è questo. Beh, l'apparato regionale non è stato che un apparato, che parte di questo stato. non potete, non potete, se ha fatto il giornale, andare, contro gli stati, le saccare, le succare, a che parte. Ed è un apparato politico che l'ha prodotto. Com'è questo stato prodotto? Questo apparato, che voglio il governo a essere giocato? Beh, si è stato prodotto, su una preselezione, ad un partito italiano. Ha preselezionato lo scandidato, e poi, gli stati sono stati esposti, gli elettori, a governare gli stati giovani. Quindi, è inattaccato, è inutile, per funzione, deve farlo escluso, non poter farlo diversamente, casinò, a questa prossima selezione. Forse, non è eliminato, non è sempre funzionale, i disegnati, scusate, gli partitori italiani, di uno che può attaccare la regione, a attaccare gli stati, o a attaccare la vera, che non ha anche un decreto, il finito, che poi le conome, causano un danno, lo finno, per andare a mettere i soldi nel cemento, veramente, il danno non lo deve fare, che veramente, veramente lo sconto. Ma, noi, si comprendiamo l'energetico, l'amore? Sì, noi siamo solo un po', come che dove si sconto, lo devono risolvere, si comprende l'energetico. Siamo in grado, abbiamo una scompetenza scolar, per le risoluzioni, si comprende l'energetico? Sì, abbiamo una scompetenza scorrisponde, ho risolto il suo problema energetico, che non potete essere, che è facile, che è semplice, ovviamente, insaccare da, ma perché, cosa qui, aveva, che succedono, tantas persone, perché, tra fortuna, mi conosciano, e con lo schia, non ne so, mai quindi ha, interpellato, sul cervello, collettivo, di questa manifestazione. Beh, a certa gente, che sconvinta qui, noi, non potremmo stancare, intanto, di un orario energetico, non stancare, intanto, un orario energetico, produivamo solo, le energie, che servono da noi, e poi, questo, poi si torna a capire, non siamo, il suo mondo. Ma com'è? Come vedete, gli 80 anni, che non hanno l'ario, io sono indipendentista, e tu, che non sei indipendentista, ti ha, questo un orario energetico, ma poi siamo, il suo mondo. Noi siamo, il suo mondo, e dobbiamo spassare, al nostro sistema energetico, moderno, del suo mondo, dobbiamo spassare, a livello del smart grid, in Sardinia, e super grid, mondiale, cioè collegato, dal suo mondo, che è il suo mondo, un secolo, e siamo, un colore, adesso, fino a se magari, con leggi, non mi sembra, questa europea, il suo colore, esatto, che l'ha cancellato, non lo so, ma proprio tutto, pare che andrà bene. Nessuno, io piace il programma, questa questione, adesso, il vostro legge, adesso, quel riconoscimento, che viene ad alta, linguistica, quasi prerogativa, adesso, del Sud Tirolo, e della Valle d'Aosta, ma per l'anno, ha questa questione energetica, quindi, noi, deviamo stravagliare, però, un sistema energetico, che non si è, pensato, che si ha scatenato, e che sul vincolo, potesse, leggere, che hanno, finalmente, trovato, che era di stabilito, che lo spannello, potesse stare, a, 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 metro, da, a, 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 che siete quindi pieno di risorse, la nostra risorsa che abbiamo fatto, ma questa fortuna deve possedere sul petrolio non nessuno. Questo è evidente che prima non valgiano a nulla, serviamo solo ad antipolare 1 e ad antipolare 1 e come invece servono a produrre sul bene così importante di nessuno, e cioè l'energia. Non lo possediamo. E quindi non siamo in grado di diventare così, a California che è l'inquinamento che siamo in grado di produrre energia che produrre un minimo, un grammo di CO2, e che ne manca utilizzare batterie, quindi black mass, che poi costruiscono l'anamismo e costituiscono in grado di inguinamento e difficoltà alla tolera. Bene. Io ho deciso di provare verso l'idrogeno, usare l'energia alternativa con poline, l'idrogeno di generale che sono. Bene. Già poi anche in un impianto che abbiamo spavato energia vecchia, energia giusta, che è tradotto in italiano, è spossibile. c'è da partire da energia alternativa, che in termini tollerabili ovviamente mi deve essere che hanno bisogno delle nostre duchenne, due tonnellate di CO2, le nostre duchenne lo salverono contro sette tonnellate delle medie avesse stati italiani. e come anche qua, che hanno sentito che siamo una prigione abbastanza ammalorata. Noi per questo ammaloramento perché dobbiamo essere tutta la risulta di questo. Che a noi siamo le risorse? Ci sono proprio noi, questa scomitata cosa. Sono le risorse di questo popolo. E quando andiamo da iniziare spaventati, che siamo spaventati, la battaglia si potrebbe venire. Grazie.